La città di Fano avrà un servizio in più di sicurezza quest'anno. Si tratta della nuova Aquabike, moto d'acqua dotata di barella e di ossigeno medicale utile per il salvataggio, primo soccorso ed interventi rapidi nell'emergenza in mare. Il motomezzo sarà fornito dai prossimi giorni e per tutta l'estate da Mare Dentro, organizzazione di volontariato. Questa moto d'acqua sarà comunque condotta da conduttori e soccorritori addestrati e certificati perché come sapete benissimo nell'emergenza la cosa più importante e fondamentale è la tempestività di intervento. La moto d'acqua partendo essendo operativi dalla Marina dei Cesare raggiungendo i confini a sud e a nord ci mettiamo circa 5 minuti, dai 4 ai 5 minuti. Il servizio sarà dedicato a tutta la litorale fanese. La moto d'acqua acquistata anche grazie a un finanziamento del Banco Marchigiano, quando non sarà in azione, stazionerà all'interno del Porto Marina dei Cesari che è partner dell'iniziativa, ospitando il mezzo sulla piattaforma galleggiante ormeggiata nel pontile G. Mare Dentro fa sapere che effettuerà durante il weekend anche servizio di pattugliamento e sorveglianza lungo la costa fanese, dalla foce del Metauro a Fosso Seiore. In caso di emergenza si potrà chiedere l'intervento della squadra di volontari. Il numero di intervento o andate sulla pagina Facebook oppure potete chiamare il 333-600-8050. Nel caso di operatività noi saremo anche collegati con Guardia Costiera e col VHF sul canale 16 quello dell'emergenza in mare.